Uomini e donne, Alice rompe il silenzio Federico, forti emozioni, non ero sbagliata. Alice Barissani torna sui social e rompe il silenzio su Federico Nicotera dopo la scelta finale a Uomini e Donne. A distanza di un po' di giorni dalla messa in onda della puntata dedicata all'epilogo del percorso del tronista romano. La giovane Alice ha deciso di intervenire e fare chiarezza su quello che sta vivendo in questo momento. Un periodo decisamente non facile per la ragazza che, più volte durante il suo percorso, ha ammesso di provare delle emozioni forti nei confronti di Federico, ma alla fine ha dovuto fare i conti con un sonoro rifiuto finale. Nel dettaglio, Alice Barissani è stata una delle protagoniste del percorso di Federico Nicotera. Arrivata fino al rush finale assieme a Carola. Alla fine, però, ad avere la meglio è stata la corteggiatrice 21enne che ha saputo far breccia nel cuore del tronista. Riuscendo a convincerlo del fatto di essere quella giusta per intraprendere un percorso insieme fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. A distanza di un po' di giorni dalla messa in onda della scelta finale di Federico in tv. Ecco che Alice ha scelto di intervenire e lo ha fatto postando sui social un messaggio che non è affatto passato inosservato. L'ormai ex corteggiatrice di uomini e donne ha rotto il silenzio dopo la fine del suo percorso con Federico. Senza nascondere che in questi mesi ha vissuto delle forti emozioni. Sono passati un po' di giorni dalla fine di un percorso, ed è emozionante pensare a questi mesi. Che tra alti e bassi mi hanno regalato forti emozioni, ha scritto Alice ripensando a quanto vissuto con Federico nel corso di questi lunghi sei mesi vissuti nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Ci sarebbero forse troppe cose da dire, proprio per questo mi vorrei limitare nel ringraziare nuovamente chi mi è stato vicino. Con chi io ho condiviso le risate, dispiaceri, con chi mi ha compresa senza che io dicessi nulla. Con chi era pronto a entrare in camerino e dirmi che non ero sbagliata, ha scritto ancora l'ex corteggiatrice di uomini e donne. Immediata la reazione dei fan che, dopo questo sfogo di Alice, si augurano che la ragazza possa avere una seconda chance da parte di Maria De Filippi. Sei speciale Alice e ti vogliamo sul trono al più presto, ha scritto un utente social che si augura di poter vedere la ragazza nelle vesti di nuova tronista di questa edizione. Prenditi il tuo tempo e amati, questa è stata solo una parentesi della tua vita, ha scritto un altro fan sui social. Grazie. 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 Grazie.